Nuovo appuntamento con l'oroscopo. Apriamo con l'arriete. Preparatevi al meglio senza tralasciare neppure i dettagli e l'incontro tanto atteso avrà un esito inaspettato anche migliore del previsto. Sorprese piacevoli e interessanti. Toro, prima di rivoluzionare qualcosa dovreste chiedervi se state migliorando una situazione o se invece rischiate di peggiorarla. Valutatelo con obiettività e ascoltate i consigli anche di persone che avete al vostro fianco. Gemelli, avete molte idee intriganti ma non sarà facile convincere i partner o i colleghi di essere sulla buona strada. In ogni caso non fatevi scoraggiare, non preoccupatevi troppo per un risultato momentaneamente poco convincente. Cancro, la prensione peggiora e non poco il vostro rendimento. Avreste bisogno di molta concentrazione e di sgomberare del tutto la mente. Per liberarvi dalle preoccupazioni occorre guardarle con distacco. Leone, impulsività e spirito ribelle sono difficili da controllare e per questo motivo potreste trovarvi in una situazione un po' complicata. Riflettete e poi agite. Pretendere a tutti i costi la verità comunque vi fa onore. Vergine, anche se siete un po' più stanchi del previsto, la riunione non sarà insopportabile come credevate. Accettate senza problemi anche le idee degli altri ed eviterete così lungaggini davvero molto noiose. Bilancia, giornata faticosa, specie se non riuscirete a rimare almeno un po' gli spigoli del vostro carattere per arrivare a un accordo privo di complicazioni. Potete comunque dare il vostro contributo. Scorpione, dialogando con le persone che amate proverete una sensazione di liberazione. Non dovete temere di avere una vostra opinione anche se diversa dagli altri. Ciò che conta è credere nelle vostre idee. Sagittario, alcuni dettagli sono da migliorare, ma se di fronte alle difficoltà non mi farete prendere dal nervosismo, di sicuro centrerete l'obiettivo sperato. Abbiate più fiducia in voi stessi. Capricorno, non potete sempre pretendere il 100% dai colleghi. Dovreste mettervi nei panni degli altri e richiedere soltanto quanto possono darvi in questo momento. Acquario, avete un gran bisogno di cambiare aria ed evitare la noiosa routine quotidiana. dovreste uscire di più e soprattutto dialogare di più con il partner, visto che la maggior parte dei problemi arrivano proprio dalla vita di coppia. Pesci, affidabili e dotati di un'ottima eloquenza, non avrete alcuna difficoltà nel trovare un nuovo impiego. Siete davvero in buona forma. Perché non iscriversi in palestra per avere un corpo ancora più tonico?